Oh oh! Arpa! Freccia, fratello, freccia! Bel colpo, fratello! Bel dietro! Aucca! Il collegato scuso va verso l'area centrale. Per quale motivo? Il Grazie. 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 Dietro di te! Grazie. 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 Fuoco, dietro di te! Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Fuoco, dietro! Fuoco! 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 Grazie a tutti. 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 Wow. Forza di fusione. Suona pericoloso. Avevo ragione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.